Cristiana Folin per Vercelli Web TV, oggi in prefettura per la presentazione del progetto di volontariato I Care Your Children, giunto alla sua undicesima edizione. Sì, è un'iniziativa ormai piacevolmente consolidata nel corso degli anni, un'iniziativa che riguarda la provincia di Vercelli non solo, anche gli amici di Novara e Biella sono coinvolti. Ho al mio fianco il presidente del comitato locale di Gattinara, il presidente del comitato locale di Crescentino e il delegato provinciale per l'attività di emergenza Stefano Schena, che sono loro che materialmente organizzano, non solo da un punto di vista materiale, ma anche da un punto di vista di mente, dell'attività. Allora, il progetto nasce praticamente negli anni 2000, inizialmente come provincia di Vercelli. Poco per volta negli anni si articola sempre di più, nasce come situazione di accoglienza di bambini in situazione di emergenza. Poi per non lasciare che le strutture fossero inutilizzate abbiamo deciso tutti assieme di farlo diventare un progetto di accoglienza di bambini con situazioni problematiche in Varsesia per regalare una settimana di vacanza. Comunque nasce così e poco per volta si articola. Si articola sempre di più, tant'è vero che quest'anno le province coinvolte saranno ben quattro, perché oltre a Vercelli, Biela, Novara c'è anche Torino, che quest'anno è stata coinvolta. E quindi il progetto sta continuando a crescere, ha raggiunto la sua dimensione vera, regionale, quella che deve essere. Quest'anno vi dedicherete anche all'assistenza anziani? Sì. Meno fortunati? È una prerogativa che abbiamo sempre portato avanti negli anni. Quest'anno vedremo di coltivarla un pochettino di più, visto che comunque anche in valle la presenza degli anziani soli ormai è una realtà abbastanza pesante. Quest'anno accoglieremo una quarantina di bambini a settimana con una presenza media di 60-70 volontari al giorno. Il tutto lo abbiamo deciso di rifare nella frazione di Roccapietra vicino a Varallo perché era il terreno più idoneo, perché grazie comunque agli enti locali che ci hanno dato un grossissimo supporto cercando di adeguare l'area alle nostre esigenze, ai Vigili del Fuoco riusciamo a soddisfare tutta una serie di esigenze logistiche che negli altri anni abbiamo fatto edizioni prima a Scopa e a Scopello, però era una località troppo piccola ormai per raccogliere questa realtà che ormai è veramente grande. Sì, come detto Stefano siamo ormai un team abbastanza collaudato, chiaramente il campo per funzionare necessita anche tutta quella struttura logistica che la Croce Rossa italiana normalmente mette in campo in situazioni di emergenza e quindi è messa in campo in situazioni ovviamente non di emergenza, ma in funzione esercitativa sia per supportare il campo ma anche proprio per il proprio personale, per avere conoscenza di operazione per eventualmente affrontare una situazione di emergenza. Il campo ospiterà nel totale circa oltre 170 volontari della Croce Rossa italiana nell'arco delle due settimane e chiaramente verrà gestito giornalmente sia per quanto riguarda le funzioni di cucina, quindi con la cucina da campo in grado di preparare 300 passi al giorno, suddivisi nei tre passi principali e in più tutta la parte di logistica per quanto riguarda servizi, attacco idrico, attacco elettrico, energetico, abbiamo 15 tende, furgone, autocarri, quindi tutta una parte logistica importante che nel tempo in questi 13 anni si è ingrandita viene ad avere queste dimensioni abbastanza importanti e ogni volontà della Croce Rossa comunque acquisisce una capacità di preparazione al momento in cui deve utilizzarla in una situazione di emergenza.